Il mio paese Questa che cos'è? Senta, io sono un chirurgo estetico, ecco io potrei veramente fare qualcosa per sua moglie, magari Così lei è un dottore Un dottore verrà a Pietra Mezzana Abbiamo un mese per convincere il dottore a firmare un contratto a tempo prolungato Dobbiamo far innamorare Gianluca Terragni di Pietra Mezzana! Tenetevi forte, eh? Perché è pericolo gioco Questo è il suo profilo Facebook E' appassionato di cricket Il cricket è uno sport Ce la possiamo fare E' facile Vabbè poi alle divise ci pensiamo dopo Possiamo migliorare Senti, è com'è il paese? Un buco in culo al mondo Volevo dire che è un posto delizioso, ecco Incredibile, tutti i giorni trovo 5 euro Ma veramente Comunque il vostro piano mi fa schifo Eh bravo Emergenza! Tutti al mare! It's not the cricket! Ah questa se ci va di culo e siamo fortunati Dura anche 5 ore Sai cosa mi andrebbe adesso? Un sushi e sashimi sotto casa E la vedo dura, amore Buonasera Salve Cosa avete da mangiare? Sushi e sashimi Oh It's not 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 It's not